Nuovo prelievo multiorgano all'ospedale Cannizzaro di Catania. A Donare è stato un paziente di mezza età deceduto a seguito di una grave moragia cerebrale. Ricoverato nell'unità operativa di anestesia e rianimazione, dove ha completato il percorso diagnostico-terapeutico, il paziente è entrato in osservazione. Grazie al consenso dato dai familiari è stato possibile prelevare le corne da parte degli specialisti oculisti dell'azienda Cannizzaro, con destinazione la banca degli occhi e il fegato da parte di un'equipe specializzata dell'ISMET di Palermo. Si tratta del quarto prelievo multiorgano del 2023 all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il precedente era stato nel mese di aprile, quando un paziente deceduto per aneurisma cerebrale aveva a sua volta donato fegato, reni e corne. Siamo profondamente riconoscenti verso i familiari che in quest'ultimo caso, come anche in altri prima, pur in un momento di sofferenza, hanno compiuto un gesto di altruismo, dice il dottore Salvatore Giuffrida, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, dando possibilità di una vita migliore ad altre persone.